La differenza tra le due squadre, alla fine credo che sia un risultato meritato. E tu cosa ne pensi della partita Luca? Le vittorie sono tutte importanti Fabio, creano mentalità all'interno dello spogliatoio e danno quella struttura alla squadra per poter alzare sempre l'asticella degli obiettivi. Non ci resta più molto tempo, un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Un ringraziamento e un saluto anche da parte mia. Grazie 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 Grazie